Innanzitutto volevo scusarmi perché questa settimana vi ho trascurato un po' ma ho avuto una fraccata di lavoro, una caterva di esami da correggere, un mare di lezioni da preparare e veramente non ho avuto tempo di fare nient'altro. Visto che in questi ultimi giorni abbiamo parlato di giardini e ci siamo concentrati soprattutto sul lessico ho pensato che questo video doveva essere sul lessico appunto e sono partita da questo messaggio molto ben scritto e anche molto interessante in cui uno di voi racconta un po' come era un giardino della propria infanzia e dice un giardino non molto grande però affollatissimo di fiori e alberi. Allora tutto il testo è scritto molto bene si vede che questa persona ha cercato di utilizzare un lessico ricco e di introdurre nuove espressioni che magari non non è abituata a usare e però questo affollatissimo non va bene qui perché affollato si usa per le persone cioè io non posso dire una strada affollata di macchine per esempio ma posso dire una spiaggia affollata una strada affollata una chiesa affollata una stanza affollata eccetera eccetera. Un altro aggettivo che si usa solo con persone e che ha un registro leggermente più alto di affollato è gremito. Possiamo utilizzare questi due aggettivi come sinonimi. Ma vediamo altri modi per dire pieno perché io capisco che questa persona ha cercato di trovare delle alternative alla solita parola pieno. Allora un altro modo per dire pieno è folto e fitto. L'erba, la vegetazione è folta o fitta per esempio. Il problema qui è che io non posso dire un giardino folto di alberi o fitto di alberi ma posso dire un giardino con una folta o una fitta vegetazione. Fitto lo posso usare anche per la parola bosco cioè posso dire un fitto bosco o un bosco fitto. Normalmente si accompagna anche la parola cupo perché mi dà l'idea che la luce non riesce a penetrare attraverso il fogliame degli alberi. Un altro modo per dire pieno per esempio è carico. Io posso dire un albero carico di frutta o un albero carico di fiori, un camion carico di mercanzia, ma non posso dire un giardino carico di piante, di fiori, di alberi perché questo carico mi dà quest'idea di peso, cioè c'è un peso su qualcos'altro. Io posso dire che questa settimana sono stata carica di lavoro perché questo lavoro ha pesato su di me. Allora, a parte il pieno che tutti noi conosciamo, c'è un'altra espressione un po' più colloquiale e che è un'espressione interessante perché può essere utilizzata anche in qualche modo per fare un superlativo, per aumentare il valore di pieno. Posso dire un giardino pieno di fiori, un giardino zeppo di fiori e così posso dire un cassetto pieno di fotografie o zeppo di fotografie. E posso unire queste due espressioni per dire pieno zeppo. Adesso qual è la differenza tra pieno e zeppo? Zeppo è più colloquiale. Se io scrivo un testo con un tono un po' sostenuto non userò zeppo e non userò pieno zeppo, ma nel linguaggio quotidiano sì. Per esempio, io posso dire che la mia agenda questa settimana è piena zeppa di impegni, che ho molte cose da fare. Torniamo quindi al nostro problema. Come possiamo cambiare quel affollatissimo di fiori e alberi? Metti in pausa il video e pensa che parola puoi sostituire a questo affollatissimo. Purtroppo non abbiamo nessuna alternativa a pieno, quindi dovremmo dire pienissimo o, se vogliamo dare un tono più colloquiale, pieno zeppo. Ovviamente io posso girare la frase e posso dire che gli alberi nel giardino erano fitti o che la vegetazione era affolta. Ma visto il tipo di testo, che sì che era scritto bene, ma non aveva un tono molto alto, penso che la soluzione migliore sia un giardino non molto grande, però pienissimo o pieno zeppo di fiori.